10.000 piantine per sostenere l'azione di recupero del patrimonio boschivo andato distrutto dopo l'incendio sui monti pisani del settembre scorso. E' questa la donazione della Giorgio Tesi Group per il Monte Serra distrutto dalle fiamme. Era stata la Regione, attraverso una lettera dell'assessore all'agricoltura Marco Remaschi, ad invitare le aziende vivaistiche toscane a contribuire con la donazione di piante per il ripristino agricolo, ambientale e paeseaggistico dell'area. Nei giorni successivi, come giunta regionale, io personalmente mi sono preso l'onere di scrivere al mondo del vivaismo pistoiese e a chiedere un gesto di solidarietà, di riconoscenza. Una mano per dare un segnale perché noi vogliamo ricostruire il Monte Serra più bello di come era prima. L'appello è stato accolto da Coldiretti e dalla Giorgio Tesi Group attraverso l'iniziativa Hashtag Un Bosco per Monte Pisano con la donazione di 10.000 piantine. 10.000 sembrano tantissime, è una goccia di acqua nel mare per quello che è veramente il disastro che è avvenuto. Credo che sia un esempio e uno stimolo per tutti quanti nella direzione giusta per dare sì che possa essere ripristinato questo territorio così bello. Permettetemi anche di esprimere un senso di orgoglio rappresentando questo territorio che oggi diciamo attraverso la Giorgio Tesi Group si pone al servizio di una comunità fortemente ferita che forse può tornare a rivivere, a ricostruire il proprio territorio, il proprio monte che rappresenta anche da un punto di vista culturale ed entitario un elemento molto forte della propria storia. Per la messa in sicurezza di quest'area la regione toscana ha stanziato risorse per circa 1.600.000 euro e oggi è stata firmata e siglata un'intesa per il ripristino ambientale dell'area tra Regione, Comune di Calci e Vico Pisano e Coldiretti per il rimboschimento della zona. L'incendio devastante si sviluppò il 24 settembre 2018 nella zona del monte Pisano e interessò un'area di circa 1.150 ettari con boschi e oliveti. Una zona amata dagli italiani che hanno attribuito al monte Pisano il primo posto nella classifica dei luoghi del cuore FAI, il Fondo Ambientale Italiano.